Ciao a tutti amici e benvenuti a Fiori con Amore, spezzoni di vita dal mondo dei fiori. Sigla! Una produzione Marco Fiori Torino. Oggi, in questa prima puntata, voglio mostrarvi come compongo la rosa incantata e come la confeziono nella scatola per spedirla a tutti voi, in modo da poter rispondere tramite un video a tutte le domande che mi ponete. Ma non solo amici, oggi vedremo anche la realizzazione di una coroncina da laurea ed il suo mazzo inabbinato con rose rosse e girasoli, una chicca per questo mese di gennaio. Bene, non perdiamo tempo, iniziamo subito e partiamo proprio dalla rosa incantata. Ogni rosa incantata è unica in quanto realizzata a mano. Le misure della campana sono altezza 30 cm, diametro 16 cm. All'interno della campana c'è una rosa vera, ma stabilizzata tramite un trattamento che la disidrata e la reidrata con un liquido che la pietrifica, permettendogli di non necessitare di alcun tipo di cura e di durare per sempre. La campana può essere ordinata tramite WhatsApp e ritirata in negozio oppure spedita in tutta Italia tramite TNT Express. Potrete prenotare la campana e farvela spedire in tutta Italia direttamente dallo shop online. Un minuzioso processo di lavorazione, quello che vede la coroncina da laurea. E ora, in ultimo, ma non per importanza, andiamo ad aggiungere le bacche. E siamo giunti al termine della nostra coroncina da laurea. Benissimo, adesso vi farò vedere come sta. Penso che mi andrà un po' strettina, siccome questa è per una ragazza. Però, eccomi qua. Pronto per la mia laurea. Ecco qua la nostra scatola. Adesso non ci resta che attendere il Corriere di TNT. Ciao, scatola. Ci mancherai, fai buon viaggio. Bene, mi ritrovate qui, con i fiori sul bancone, per la composizione e per la laurea. Come vi ho accennato prima, abbiamo i girasoli. Una fantastica chicca per questo mese di gennaio, fatti arrivare apposta per questa laurea. Poi abbiamo l'iperico, le bacche rosse con cui abbiamo adornato, anche la coroncina. E non possono mancare le rose rosse, che per una laurea sono veramente, veramente indicate. Il tutto farcito dall'alloro. Bene, allora, adesso mi accingo a preparare questa fantastica composizione e vi lascio ammirare il tutto con un fantastico sottofondo musicale. vai! Are you ready to play? Oh yeah! A post de los sentimientos non si juttimare il fuoco lento con il amore. Me enfrenté a la competencia Olvidando su indolencia Ahí fue mi error Por un complejo de quijote Fui llevando este derroche De mal a pejor Mi arme, la ruleta rusa Mi rival que es tan astuta Así se aprovechó Y como ven no soy un ángel Con buena intuición Me lancé a quemar ropa Y ella me venció Perdí Jugué con una diabla Que se experte en esos juegos del amor Y perdí Sus fichas y barajas No le fallan más No tienen ambasión Perdí E siamo così Giunti Alla fine Della nostra prima puntata Mi auguro Che avrete già lasciato un like E vi siete iscritti Al mio canale YouTube Per non perdere Le puntate A seguire Vi ricordo Che potrete acquistare Tutti i prodotti Firmati Marco Fiori E sullo shop online Vi ringrazio E vi annuncio Che ne vedremo delle belle Nelle prossime puntate Ciao 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 Grazie.